Nel 1920 nasceva il maestro Alberto Sordi, siamo nel 2020, è il centenario della nascita, cento anni. Come potevo non parlare sul canale dei più grandi film del nostro mitico artista? Ho deciso allora di creare questo format dal titolo Ciao Albertone, che continuerà a durare non so ancora per quanto. Comunque io vi assicuro che una volta a settimana troverete qua sul mio canale Paolo Innocenti un video dedicato ai più grandi film del nostro artista. Ecco da che film poter iniziare? Io me lo chiedevo, me lo domandavo, poi ho pensato ma caspita questo è un periodo in cui bisogna stare in casa, bisogna stare attenti, bisogna essere vigili più che altro. Quindi perché non iniziare proprio da un film del 1960 diretto da Luigi Zampa dal titolo Il Vigile? Ebbene ragazzi inizio proprio da questo film, questo film che rappresenta appieno il classico film della commedia all'italiana, la commedia all'italiana, quella commedia che oggi purtroppo non esiste più, sono rari oggi i registi, seppur io apprezzi anche la commedia di oggi, più leggera, diversa dal solito, insomma sono pochi i registi oggi che si avvicinano, che possono essere considerati eredi dei maestri di questi film con Alberto Sordi, insomma degli anni 50, 60, è veramente difficile oggi. Qualcuno ci si avvicina però la commedia all'italiana con la C maiuscola oggi purtroppo non esiste più. Detto questo Il Vigile è un film che si inserisce appieno in questo contesto della commedia all'italiana perché è il classico film dove non manca l'ironia, dove si ride, ma allo stesso tempo dove anche la malinconia è presente, l'amarezza è presente. È presente ovviamente l'aspetto neorealistico fondamentale all'interno della vera commedia all'italiana perché si parla di strada, è come se si parla di strada, si parla proprio di un vigile che lavora in strada. Ovviamente allo stesso tempo guardando questi film, come era giusto, guardando i film della commedia all'italiana, si percepisce la durezza della vita. In questo caso si parla di un giovane, di un giovane diciamo disoccupato, il nostro Tello Celletti, che un giorno si ritroverà ad essere vigile urbano perché il figlio, il meccanico, il figlio piccolino, salverà un giorno da negamento certo il figlio di un assessore, insomma, il figlio del sindaco. E cosa accade? Lui si ritroverà ad essere vigile urbano. Essendo vigile urbano forse esprimerà nei confronti della gente tutta la sua rabbia repressa. Otello era uno che veniva sempre preso in giro, gli facevano le pernacchie ogni volta che entrava insomma nella locanda, ogni volta che entrava al bar gli facevano le pernacchie e lo prendevano in giro. E quindi lui finalmente con la divisa da vigile, dopo varie peripezie per arrivare ad essere vigile, riuscirà forse a esprimere tutta la sua rabbia anche magari nei confronti di persone ignare che non avevano fatto niente di male. Quindi sono storiche. È già calta la scena di lui che blocca il traffico in centro a Roma, che blocca il traffico alla rotonda, tutte le macchine rischiando incidenti e così via. È storica, no? È storica quella scena. Ovviamente questo film ha una sceneggiatura di Ugo Guerra, di Rodolfo Sonego e proprio di Luigi Zampa. Alberto Sordi è formidabile come in questo caso è formidabile Vittorio De Sica, il sindaco, colui che poi dopo vari stress lo metterà proprio a dirigere il traffico, lo metterà, insomma lo farà diventare vigile urbano. Perché questo film non è il classico lungometraggio che fa solo magari ridere così via di fronte all'inesperienza del nostro hotello? Beh perché poi quella che inizia come una commedia divertente basata anche sulla rivalsa, sulla vendetta che cerca di portare avanti il nostro Tello Celletti che finalmente si può far rispettare, diventa un film che ben fa riflettere, diventa un film che fa quasi arrabbiare e rabbrividire dal momento in cui il nostro Tello Celletti volendo rispettare appieno le regole vorrà multare per eccesso di velocità, specialmente in una zona molto pericolosa, il nostro sindaco che sta sfrecciando in questa zona ad alto potenziale di incidente con la sua macchina e quindi visto che era già stato ripreso il nostro hotello perché nel momento in cui aveva incontrato Silvia Coscina, c'è l'attrice che interpreta proprio se stessa e l'aveva fatta andare via seppur senza documenti, seppur fosse senza documenti per la stima che provava per essa, siccome viene rimproverato, caspita il nostro Tello dice da qui in avanti io multerò tutti. E quindi ecco che la prima persona può essere il sindaco perché sfreccia con la sua macchina andando ovviamente contro i limiti di velocità non guarda in faccia nessuno hotello, è pronto a multarlo, ma non solo il nostro sindaco interpretato da un Vittorio De Sica straordinario gli dà dello stronzo, ma se ne va ancora più spedito verso casa dell'amante. E quindi il nostro hotello non solo non si vuol far mettere piedi in testa ma vorrà proprio vincere questa causa che poi vedremo nei tribunali, vorrà proprio vincere facendo trionfare la legalità, è una persona che vuol far trionfare la lealtà, la legalità a costo di andare in tribunale. Cosa succede però? Beh succede che molto presto ci rendiamo conto che è impossibile mettersi contro dei colossi, è impossibile mettersi contro i politici, ovviamente il sindaco aveva ganci con i prefetti, con i politici, insomma nel giro di poco tempo i nostri antagonisti riusciranno a mettere in seria difficoltà il nostro protagonista arrivando a minacciarlo, arrivando a ricattarlo, sì sì denunciaci pure, sì sì vieni in tribunale, denunciaci, mettiti con i monarchici perché ovviamente ci sono i monarchici che vorrebbero no? Otello come leader del gruppo contro i politici, sì sì sì, te mettiti pure con loro, però ti ricordo che te e la tua compagna non siete sposati, siete concubini, ti ricordo che lei non ha mai divorziato con il marito, ti ricordo che tua sorella a Milano fa la prostituta ma non fa i massaggi, no? E quindi insomma verrà ricattato, praticamente il film fa riflettere su quanto sia impossibile mettersi contro certi colossi, mettersi contro chi ha il potere, alla fine come sono riusciti in un attimo a farlo diventare vigile urbano senza concorsi, senza niente? In un attimo potrebbero schiacciarlo il nostro tello, quindi già in un film del 1960 si rifletteva su questa cosa, sulla potenza della politica, sulla potenza dei padroni, sulla potenza dell'illegalità, perché alla fine stanno agendo illegalmente i nostri antagonisti, stanno portando avanti un ricatto, stanno portando avanti un'azione negativa, spreggevole nei confronti del nostro protagonista, che poi, e qui faccio spoiler ma spero che il film l'abbiate visto tutti, alla fine vedetevelo lo stesso se non l'aveste fatto, alla fine il nostro otello, persona per bene, persona che voleva far vincere la lealtà, in tribunale si ritroverà a praticamente controbattere su ogni cosa che aveva detto, praticamente a dare ragione al sindaco, ad accusarsi se stesso per paura che potesse andare incontro ad una giustizia che l'avrebbe messo nei casini, che l'avrebbe tolto dei soldi, per paura che le conseguenze sarebbero state gravi, potessero essere gravi anche in famiglia per quanto riguarda la sorella, per quanto riguarda il fratello della compagna, insomma si troverà costretto a praticamente smentire tutte le cose che fino ad allora aveva detto, in questa scena in tribunale che si può far magari sorridere ma di un sorriso amaro, farà sorridere amaramente perché quel sorriso dello spettatore che farà, caspita madonna ha ritrattato tutto, è un sorriso con dentro rabbia, con dentro caspita tutto il nervoso possibile perché vediamo come un povero uomo che voleva solamente riportare la legalità a trionfare si troverà costretto a piegarsi contro i padroni, e il film ragazzi non finisce con la vittoria del buono, il film ragazzi non finisce con la contromossa e tutto è bene quel che finisce bene, no perché la vita è ingiusta molto spesso, perché la vita è feroce e quindi il film finisce in maniera ancora più amara perché vedremo il nostro Tello che ovviamente doveva smentire tutto anche per non perdere il posto da vigile, che sulla strada continuerà a fare il vigile, insomma lì nella rotonda della morte, nella curva della morte, che fermerà tutte le persone proprio per far passare il nostro sindaco, il nostro Vittorio De Sica a velocità elevata con questo finale in cui lui lo fa passare, con la gente che si lamenta perché lui sì, perché a lui non dite niente con il nostro Alberto Sordi, il vigile che temporeggia e lo fa passare e con questo rumore di disastro in sottofondo perché ovviamente ha fatto un incidente però ovviamente tutto è contemplato, vediamo il nostro sindaco che viene tirato via dalla scarpata con la macchina distrutta, ovviamente non è morto, però capiamo anche le conseguenze le conseguenze dell'atto compiuto dal nostro sindaco e ovviamente tutto ciò è accettato dal vigile non verrà mai multato, tutto ciò ovviamente è possibile quindi in un film del 1960 si rifletteva su quanto fosse impossibile mettersi contro certi personaggi contro i potenti, una cosa vera ieri, oggi e purtroppo domani oggi magari se avessero fatto un film di questo tipo avrebbero mostrato il rovescio della medaglia avrebbero magari mostrato, non dico sempre perché ci sono quei film che ancora oggi osano però magari avrebbero mostrato il vigile che poi magari si può vendicare, che ha la sua rivalza che insomma fa trionfare la giustizia purtroppo no, a quei tempi nella commedia all'italiana si osava si mostrava la vera vita pure cruda insomma si mostrava tutto in maniera estremamente realistica e quindi in questo film si può sì ridere di fronte alle disavventure del nostro vigile al suo essere impacciato ma allo stesso tempo voglioso di portare legalità di portare insomma giustizia nel suo modo, nel suo modo un po' impacciato ripeto la scena in cui ferma tutte le macchine è meravigliosa sarà divertentissimo vedere la scena in cui manda il figlio a parlare con il sindaco per convincerlo a farlo diventare vigile è spassosissima con il figlio che ripete al sindaco le cose come vuole lui mio papà non ha voglia di lavorare ma comunque insomma quella scena è bellissima e vuole andare in motocicletta quella scena è fantastica come è fantastico questo film Vittorio De Sica, Silvia Coscino, Marisa Merlini, Mario Riva, Nando Bruno, Mara Berni, Ilia Zoppelli Franco Di Trocchio, Piera Rico insomma c'è Riccardo Garrone in un piccolo ruolo Mario Scaccia, Alberto Sordi e Vittorio De Sica insieme sono perfetti cioè i tempi comici eccezionali veramente sono film di altri tempi che purtroppo non riusciremo mai a vedere oggi sono quei film che veramente lasciano al patrimonio artistico e culturale italiano tantissimo perché erano proprio quei film meravigliosi capolavori della commedia all'italiana per me il vigile è uno dei capolavori della commedia all'italiana e pensate un po' che anche se nel film vi è scritto, piccola curiosità, ogni riferimento a fatti persone è puramente casuale beh non è del tutto casuale perché come poi mi sono informato la pellicola si ispira davvero ad un fatto di cronaca avvenuto a Roma nel luglio del 1959 cioè all'episodio di un vigile che si chiamava Ignazio Melone che ebbe il coraggio di multare il questore di Roma e ovviamente il questore si incavolò per questa cosa ci fu insomma una diatriba legale che poi sfociò in un nulla di fatto perché il questore andò a ricattare il nostro protagonista mettendo anche nei casini la sorella del protagonista che in realtà a Milano faceva la prostituta quindi ci sono molti punti di contatto fra la storia vera e la storia del film però se sa è un film anche che ha elementi neorealistici e nel neorealismo si racconta il reale quindi la commedia all'italiana che si rispetti come ci insegna il mitico Adrianone della Starza che mi ha un po' introdotto anche a questo genere deve avere sempre degli spunti delle tinte neorealistiche detto questo il vigile Luigi Zampa 1960 un grandioso Alberto Sordi Otello Celletti un grandioso Vittorio De Sica il sindaco io voglio ricordare Alberto Sordi in questo primo video proprio con il vigile e visto che voi siete a casa in questo periodo vi esorto a recuperare i film di Albertone magari recuperate proprio i film di cui sto parlando io settimanalmente così magari potete anche onorare stando in casa il centenario del maestro Alberto Sordi il vigile primo tassello di questo nuovo format ciao Albertone ciao ragazzi